Stanco di digitare lunghi codici PIN per ricaricare il tuo credito telefonico? Oggi esiste un modo più facile, veloce e sicuro. Si chiama Clicca e ricarica. Vai sul sito www.cliccaericarica.it ed inserisci il tuo numero. Seleziona il tuo operatore telefonico. Scegli l'imparto e clicca su Genera codice. Fai leggere il codice a barra in cassa. L'accredito è immediato e puoi pagare anche in contanti. Già attivo per i principali operatori e nelle migliori insegne. Prova subito, clicca e ricarica nel tuo punto vendita preferito.